allora ragazzi eccoci qua buongiorno buon sabato a tutti primo video della giornata e poi probabilmente domani domenica un po di riposo oggi pomeriggio vi porto chi compra la juve te lo dico io mentre se faccio in tempo a registrarlo montarlo l'ho già scritto e se non ci riesco lo vedrete domani però oggi voglio portarvi quel video che non vi ho portato ieri perché ieri ho preferito parlarvi di paratici che tra l'altro notizia freschissima ha accettato l'offerta del tottenham e quindi sarà in inghilterra il prossimo anno probabilmente al fianco di antonio conte dove i due si rincontreranno dopo quella buona buonissima parentesi bianconera che ha dato il via al nostro ciclo di vittorie quindi ieri dicevo non in bocca al lupo dovesse essere un nostro rivale invece non sarà nostro rivale a meno che non ci si possa beccare eventualmente in qualche competizione europea non dico centri quindi qualche competizione europea e sappiamo in questo momento c'è un po casino con il discorso super lega e ovviamente nell'arco del futuro non solo il prossimo anno prima di tutto c'è one football qui sotto in descrizione per andare a scaricare one football e seguire tutti i procedimenti tutti i processi che ci porteranno a creare la squadra dell'anno prossimo e quindi è molto importante in questo momento per una come one football sui vostri cellulari e ieri ho fatto un po un discorso e vi ringrazio perché il video è andato molto bene tra commenti mi piace visualizzazioni condivisioni è dato veramente una bomba in cui facevo dei ragionamenti sul calcio mercato ok e su quello che in questo momento non mi sta piacendo del calcio mercato della juventus le chiacchiere più che altro non il calcio mercato vero e proprio perché ovvio che non posso dare un giudizio sul calcio mercato non essendoci ancora state trattative non ci sono ancora state ufficialità però ovviamente dalle chiacchiere poi può nascere qualcosa e le chiacchiere del momento non mi stanno facendo impazzire proprio per il discorso che vi ho fatto in quel video lì faccio un passo indietro però faccio un passo indietro ad oggi la pista Pjanic sembra molto calda molto calda il che non significa che verrà ufficializzato il ritorno di Pjanic in prestito significa che è chiacchierata e che Pjanic avrebbe dato un'apertura favolevole al ritorno a Juventus in prestito la Juventus e Max Allegri potrebbero essere disposti disponibili a parlarne io ne ho già parlato tanto ho già detto quello che penso su Pjanic sul ritorno di Pjanic sono stato anche un po' duro un po' rude se vogliamo dicendo che nell'ultimo anno non mi è piaciuto il comportamento della seconda parte delle stagioni di Pjanic dove stava già pensando a un'altra squadra non stava più giocando per la Juventus e questo secondo me per un professionista è tremendo e atroce quindi non mi è piaciuto il modo di salutarci di Pjanic che sicuramente non è dato il cento per cento nell'ultima parte di avventura juventina proprio perché già pensava a un futuro in Catalogna che poi è andato male e adesso ovviamente pensa al ritorno a casa tra virgolette oggi però faccio un un passo indietro non tanto per la questione Pjanic quanto più per una voce che sembra essere confermata dai maggiori esperti di mercato e potrete trovare riscontro anche di questo su OneFootball secondo la quale la Juventus in questa sessione di mercato potrebbe avere spazio salariale e spazio monetario soltanto per un grande colpo a centrocampo e Allegri starebbe cercando un grande nome a centrocampo ok vorrebbe un giocatore molto fisico un giocatore molto tecnico un giocatore in grado di dargli determinate garanzie che in questo momento nel centrocampo della Juve non ci sono perché se andiamo ad analizzare il centrocampo della Juventus non c'è altezza non c'è fisicità c'è solo grinta c'è recupero palloni l'unico giocatore che può corrispondere a queste cose un po' è Adriel Rabiot che però ha sicuramente altre caratteristiche per intenderci dovesse essere davvero un 4-4-2 con un esterno che fa l'esterno ma in realtà è un centrocampista come quest'anno è stato McKennie ma come per Allegri è stato Matuidi o Pogba stesso ecco che un nome come Pogba che però lo sappiamo lì dovrebbe legarsi poi per forza di cosa allo scambio con Cristiano Ronaldo e non ci sono in questo momento informazioni che ci fanno ragionare su questa cosa qua al momento la situazione Ronaldo è completamente congelata in stand by e a questo punto potrebbe addirittura andare oltre gli europei cosa che io non mi immaginavo nemmeno e ve ne dico anche un'altra in questo momento più tempo passa e più mi sento di dire che Cristiano Ronaldo rimarrà alle Juventus mi immaginavo un Ronaldo volenteroso di dire la sua prima degli europei per disputarli nella più totale tranquillità sapendo che doveva soltanto accettare qualche offerta quindi più passa il tempo e più mi aspetto un Ronaldo alla Juve poi questa è una sensazione sapete bene che la mia sensazione è che lascerà la Juve però se ancora non è arrivato quel fatidico comunicato che dice no guarda io me ne vado e rimaniamo qua e aspettiamo dicevo Pogba o Milinkovic-Savic quindi se l'acquisto di Pjanic è finalizzato all'arrivo di uno tra Pogba o Milinkovic-Savic che sono gli unici due centrocampisti che mi vengono in mente perlomeno in grado di darci tecnica, altezza, fisicità, gol, assist e inserimenti e la possibilità di giocare anche in un ruolo un po' ibrido tra centrocampo ed esterno e trasformare la Juve magari per mettere davvero Di Bala e Cristiano Ronaldo là davanti allora sì benvenga l'arrivo di Pjanic piuttosto che l'investimento di 30-40 milioni su Manuel Locatelli che ripeto per me rimane un grande obiettivo, un grande prospetto sapete come la penso, ne ho già parlato in un video dicendo anche però di non farci affascinare dal fatto che Locatelli stia facendo grandi cose al Sassuolo perché poi dipende al Sassuolo e alla Juventus, sono due cose diverse e anche qua più passa il tempo, più ci si avvicina gli europei più la pista Locatelli forse perde un po' di impatto perché la Juventus vorrebbe fare la prima degli europei per non far alzare ulteriormente il costo del cartellino quindi se Pjanic viene vista come l'occasione di mercato in grado di regalarci un giocatore che anche questo nella Rosa non abbiamo un giocatore come Pjanic con le caratteristiche di Pjanic che possa fare du play come Pjanic e siamo stati tutto l'anno a dire che è l'unico giocatore in grado, vogliamo proprio esagerare di trattare il pallone come play, Arthur che ha tutte altre caratteristiche quindi se l'obiettivo è prendo Pjanic perché mi serve un play gli affianco Rabiot e uno tra Pogba e Milinkovic-Savic perché ho la possibilità di investire quei soldi solo su un grande colpo a centrocampo sì, grande sì perché poi vai a creare un centrocampo veramente con delle caratteristiche inedite è un centrocampo di qualità ed è l'unico, veramente, vi ripeto è l'unico, l'unico motivo per cui poi posso andare a capire il ritorno di Pjanic l'avere un centrocampista pronto di qualità, che conosce l'ambiente è a costo a zero in cui vai a pagare soltanto l'ingaggio ok, non dovesse però arrivare un centrocampista come Pogba o Milinkovic-Savic o chi per loro, lo vedremo nel video di oggi che compra la Juve, tutti i nomi del centrocampo allora ribadisco che è un'operazione completamente priva di senso aggiungo però che Pjanic dovrebbe tornare con la consapevolezza che giocherà tutto l'anno per onorare la maglia della Juve non solo i primi sei mesi perché poi magari nel mentre gli arriva un'altra offerta allora inizia già a pensare che l'anno prossimo non essendo della Juve tornerà a Barcellona e andrà in quest'altra squadra perché in quel caso poi girano anche un po' le palle perché la Juventus viene vista soltanto come la squadra di passaggio mentre tu realizzi la tua carriera e i tuoi porci comodi ecco, quello voglio ribadirlo sin da subito perché davvero il comportamento di Pjanic nell'ultima parte di stagione della Juventus non mi è piaciuto per niente vanno dette certe cose mi dispiace per quanto bene voglia Pjanic per quanto mi sia piaciuto come giocatore alla Juventus quella è una nota dolente secondo me che si porta dietro passiamo all'altro e cioè questo fantomatico scambio Florenzi-Scesni che sta circolando da un po' di giorni ora non ne ho parlato fino adesso perché mi sembrava anche un po' una puttanata però questa voce sta continuando a circolare ora ve lo ribadisco secondo me è molto difficile che questa cosa si possa concretizzare lo vedo veramente complicato per un discorso legato anche non solo anche all'ingaggio di Scesni che è superare 7 milioni quindi penso che possa essere un ingaggio della Premier League e non da Serie A e soprattutto non da Roma che già sta facendo uno sforzo economico incredibile per pagare Mourinho Scesni conosce Roma conosce l'ambiente Roma Mourinho sta cercando un portiere addirittura c'è questa voce che si sia sentito con Donna Roma per portarlo lì noi abbiamo la necessità di cedere Scesni per acquistare Donna Roma e ovviamente la Roma potrebbe incastrare Florenzi perché è una pedina di scambio che ha un giocatore palesemente in uscita che prima tra Valencia e poi PSG ha fatto un po' di stagioni in giro per il mondo dato che a Roma ha rotto i rapporti Florenzi è un giocatore che mi piace per duttilità che mi piace per voglia e per spirito di sacrificio non mi piace per struttura fisica non mi piace per infortuni lui è cronico ha tanti infortuni molto spesso muscolari e non e non mi piace ovviamente per status per età e ovviamente però bisogna ragionare anche sul fatto che tu non è che puoi fare solo un mercato giovane come è stato fatto l'anno scorso devi cercare di farcire quindi qualche giocatore esperto ci può stare il problema di fondo qual è? che Florenzi va a incastrarci esattamente nei terzini destri dove abbiamo in questo momento Quadrado e Danilo che sono due esperti non ce ne sono dei due giovani ovvio che Quadrado lo potresti portare alto e quindi dici non solo due ovvio che Danilo lo potresti portare a sinistra e quindi dici non solo due però capite bene che sono tre profili tutti con caratteristiche differenti che però sono sulla trentina se non di più hai capito? quindi un pochino storco il naso storco il naso però è anche vero che l'opportunità di dar via Scesni che è un grande punto interrogativo che non ti fa chiudere l'affare Donnarumma e contestualmente e contemporaneamente vai a prendere un giocatore che conosce alla perfezione a mena dito il campionato italiano e che ha delle caratteristiche anche interessanti e uniche all'interno della rosa e forse Florenzi è uno dei pochi giocatori che ha caratteristiche uniche così di duttilità nel mondo intero e abbina qualità e tecnica un terzino sinistro un terzino destro scusate come Florenzi lo vede ancora bene bisogna capire a che livello è perché Florenzi è sempre stato un giocatore di alto livello in Serie A l'anno scorso a Valencia forse non ha fatto benissimo quest'anno al PSG ne ha giocate tante da titolare vedremo magari anche con la nazionale cosa ci potrà dire sono un po' confuso penso di sì ecco la prima volta che abbiamo parlato di questa cosa eravamo in live e vi ho detto ma credo che si possa fare pensandoci sopra un po' di più qualche dubbio in più mi viene ma non riesco a essere contrario a un'operazione del genere proprio perché mi permetterebbe di arrivare a Donnarumma che è un grande punto interrogativo proprio per via della presenza di Shesny quindi sarei disposto probabilmente a fare questo scambio e sarei disposto a riprendere Pianici in caso di poi arrivo a Torino alla Juventus di un grandissimo centrocampista e poi dopo inizia anche un po' tutto a prendere forma perché ti immagini una squadra con Ronaldo Di Bala Chiesa eventualmente un altro esterno può essere quadrado oppure magari quadrado in panchina o quadrado a terzino un centrocampo a tre un centrocampo a quattro con delle forti individualità a seconda anche del fatto che giochi Di Bala oppure no a seconda del fatto che ci sia Ronaldo oppure no inizia a prendere comunque forma la squadra perché Allegri dovrà arrivare a dire bene io questi 12, 13, 14 giocatori per me sono i titolari e attenzione che Allegri è sempre stato uno che non faceva la squadra di 11 faceva la squadra di 11 più 3 quindi di 14 compresi i cambi quest'anno la squadra sarà di 16 perché i cambi sono 5 e Allegri è sempre stato un maestro nel leggere la partita i momenti della partita con tre cambi con cinque cambi potrebbe essere una bomba atomica fatemi sapere un po' qui sotto nei commenti secondo voi se queste due operazioni di mercato possono incastrarsi se siete favorevoli a queste due operazioni di mercato a patto che poi si realizzano determinate cose e noi ci vediamo oggi pomeriggio con il video che compro e te lo dico io al massimo al massimo domani e noi ci vediamo